Ti stai annoiando? Non sai che fare? Beh, qua per te ci sono io. Per prima cosa ti do un consiglio, se sei stapparanzato nel letto sul divano, ti stanno scacciando sopra un letto, sei sotto le coperte, vabbè, è di notte, non sai che fare? Beh, ti do io un consiglio, sei di notte e dormi, ma vabbè, ti do io un consiglio, come consiglio ti dico, guarda i miei video che durano tutti sui 30 secondi per 2 minuti, 5 minuti, il resto che state vedendo che dura più di 5 minuti sono le mie live, che se volete le potete guardare che le faccio insieme a mia sorella, però mi raccomando non fare un furbetto, lascia like a tutti i miei video che guardi e iscriviti al canale. Detto ciò, ciao! Ditemi se vi sono stato utile! Ciao!